Stai andando da Catanzaro verso la Mezzia sulla statale 280 dei Due Mari? Rendi la tua sosta speciale nell'unica area di servizio ESO, dove potrai fare carburante a prezzi scontati. E con soli 20 euro di rifornimento e un piccolo contributo, riceverai un prestigioso regalo con Affari a Ruota. Nell'area di servizio ESO al Bar Barberio, potrai gustare un ottimo caffè la bazza o un gustoso cappuccino e tante delizie soffici e fragranti per iniziare al meglio la tua giornata. Da noi troverai anche tabacchi, ricariche telefoniche, gratta e vinci, prodotti tipici locali, angolo high-tech e oggettistica varia per il tuo viaggio. E per la pausa franzo, il Bar Barberio ti propone un variegato self-service o la tavola calda. Menù completo di primo, secondo e contorno a prezzi convenienti, con cucina casareccia preparata con prodotti sempre freschi, da consumare nella saletta adiacente con TV Color, Wi-Fi gratuito e aria condizionata. Approfitta anche del vano doccia a tua disposizione. L'area di servizio ESO e il Bar Barberio ti aspettano per ripartire con un pieno di gusto e di risparmio.